buon pomeriggio noi siamo attrezzati per la guerra allora abbiamo questo cavettino d'acciaio già avete capito a cosa siamo diretti una ventilibre la cimanolo scimitar il trabucco exid fidatissimo e un secchiello per mantenere il vivo cercheremo di fare dei cefali con il pane già abbiamo la montatura fatta piamba 50 grammi e fiorentina nulla contiamo di fare un 3 4 cefali e andare a trainare col vivo vediamo se esce qualche bel predatore a dopo ciao allora ci siamo ancorati vedete lì siamo ancorati abbiamo un po di pastura pasturiamo qui a fondo ci sono le mecocchiate mirko sono enormi guarda qua sotto che c'è dei tocchettini di panino sul lamo ora ve lo faccio vedere settini di pane dobbiamo prendere i cefali questo modo pezzo calo mare di occhiate ci va ma cefalo zero target cefali allora giove dopo due ore abbiamo fatto questo bel cefali e adesso lo inneschiamo bello vivo inneschiamo con questa montatura col cavetto d'acciaio c'è anche un'occhiata l'occhiata lasciamo stare però prendo solo il cefali è un gargia gialla lo inneschiamo dalla testa nel lamo trainante in questo modo nella coda in questo modo ok vediamo come nuota un grosso cefali abbiamo calato il cefali e adesso mettiamo questo piondino guardiano 50 grammi abbiamo messo una 10 12 metri dalla dall'esca 50 grammi ok posizioniamo la canna e trainiamo anche condizioni perché si è sganciato il guardiano ancora intatto si è sganciato il guardiano quindi peschiamo a galla perché non ne ho più e dopo due ore di glorioso trainacol vivo la nostra bella esca la liberiamo perché è viva ciao cefali vai alla grande Mirko mai una gioia veramente mai una gioia vai una basta basta ci vendiamo tutto basta vediamo il prossimo anno ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo